Salve Cipollotti e benvenuti, oggi sono in compagnia di Lorenzo Ciao E faremo una sfida Diciamo anche dove siamo Ah vabbè, siamo a casa di Lorenzo Faremo una sfida e proveremo a non cantare le canzoni di Harry Styles Come sapete, se ci seguite su Instagram, Twitter, Facebook Cioè sapete che io e Lorenzo siamo in fissa appesa E aveva rotto le palle per tipo... Sì esatto, cioè stiamo ammorbando tutti Sì Cioè io, ma anche i miei amici Non mi sopporta più nessuno Mi odiano tutti adesso Quindi proveremo a non cantare le canzoni di Harry Styles del nuovo album E niente, vedremo chi ci riesce Chi riesce a resistere Secondo me nessuno, ma ok Partiamo da Sweet Creature Che è una delle mie preferite Concentrati Sì, concentrati Aspetta Sweet Creature Had another talk about where it's going on But we're still young We don't know where we're going But we're two hearts One home Ma non ce la potevo fare A me è tipo reliquese con la mano davanti Che è Sweet Creature Sweet Creature Potremmo ascoltarla anche per tutto il video, credo Ok, la prossima è Only Angel Vai Oh mio Dio Vai, vai Serietà Non è che ci fai l'intro Unissimo Simpatti 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 Bello Cazzo bella è questa hai perso stai vincendo tu non mi hai mai aspettato tanto poi puoi recuperare io con Carolina perdo subito me lo sento questa è l'ultima hai già perso? no sono detto oh yeah è finissimo io me la sto contando in testa ok ho perso miseramente hai perso miseramente ma perché sono tipo le mie preferite ti rifarai con le altre tre canzoni no quelle sul mio canale ah è vero ma in realtà ho cantato anche diciamocelo diciamocelo quando si sentono queste canzoni non si può non cantare perché è proprio difficile però sai cosa vorrei provare con high school musical cioè secondo me lì è peggio per me con le canzoni wild cats no io impazzisco sai che ho le cantare di wow madonna sono proprio belle dobbiamo fare se volete lo volete un try not to sing su high school musical no perché io darei il meglio di me cioè pure i ballotti we're all in this together we're all in this together we're all in this together basta comunque Lorenzo ha vinto questa sfida ultimamente vinci sempre le sfide sul mio canale scusami mi sta bene dobbiamo fare più sfide sul tuo canale è vero quindi mi dispiace questo video inutile no non è possibile però va bene io ringrazio Lorenzo per essersi prestato questa sfizzata grazie l'ho fatto volentieri quando si tratta di Harry esatto per Harry cioè giusto per Harry per Harry io spero che veda questo video anche io lo spero e vorrei dire a Harry che il Harry in realtà il Harry Larry is real Larry is real è Lorenzo più Harry esatto non è Luis ma è Lorenzo è Lorenzo è Harry ti regalo una maglietta per Natale quella scritta Larry ti prego ti prego bellissimo tipo esco e non appena incontro una fan di Larry mi pugnala tipo praticamente esatto esatto è una membership bene quindi basta concludiamo questo video io vi lascio il canale di Lorenzo in descrizione nelle schede che sono qua si sono qua ok e basta poi qui sotto trovate come al solito i link per seguirmi sui social come al solito e basta noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.